Buonasera dal TGN e benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. Si sta concludendo in queste ore il viaggio che dal 27 dicembre ha portato l'arcivescovo di Milano, Monsignor del Pini in diverse zone del Brasile per visitare i sacerdoti della diocesi ambrosiana impegnati come missionari in quelle terre. Abbiamo voluto sentire direttamente da lui un primissimo bilancio. Sentiamo Anna Maria Braccini. Sta per concludersi il viaggio dell'arcivescovo in Brasile dove si è recato per visitare i tre sacerdoti ambrosiani in Fideidonum, quindi appunto inviati nella terra di missione. E lì attivi da circa un anno. Due le diocesi in cui l'arcivescovo si è recato. La prima San Salvador de Bahia in una delle zone più problematiche del Brasile fra favela, spovertà e dove la chiesa ha numerosissime realtà di assistenza e sostegno sociale. E poi a Macapà nella zona amazonica transequatoriale del paese. Macapà dove tutto parla ancora di Marcello Candia, l'industriale milanese che lasciò tutti i suoi averi e dove oggi molte sono le iniziative e le strutture che ne ricordano l'opera di generosità. E allora così Monsignor Delpini ha risposto a chi gli chiedeva che cosa vorrebbe lasciare a conclusione del suo viaggio ai sacerdoti ambrosiani, ma non solo a tutti coloro che testimoniano la chiesa in terra brasiliana. Un messaggio che voglio lasciare è dire siate benedetti perché soffrite qualcosa per il Vangelo, che siate benedetti perché state imparando qualche cosa a proposito della verità di Dio. Siate benedetti perché siete messaggeri di una chiesa che vuole che tutti gli uomini siano fratelli. Ecco cosa voglio dire, siate benedetti. Il 2024 sarà un anno di lavori in corso e di grandi trasformazioni per Milano. Molti degli interventi programmati verranno finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. Tre poli culturali, una piazza che da principale snodo del traffico sarà trasformata e un pezzo di storia urbanistica della città che nei mesi scorsi si è sbriciolato per far posto a un nuovo grattacielo a due passi dalla stazione centrale. Beic, Magnifica Fabbrica, Bovisa Goccia, Piazzale Loreto e Mic sono questi i grandi cantieri per i quali il 2024 sarà un anno decisivo. Così come determinanti saranno i fondi del PNRR a disposizione per completarli. A Porta Vittoria sono iniziati gli scavi per la costruzione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura con un investimento di circa 130 milioni di euro, 34 a carico del Comune e il resto del PNRR. L'idea è di finire l'opera entro il 2026. Restando nella zona est della città, più periferica, nel quartiere Rubattino, sull'area della Ex Innocenti, è partito il cantiere per il raddoppio del Parco della Lambretta, non qui quello per la costruzione del primo lotto della Magnifica Fabbrica, il progetto sui nuovi laboratori di scenografia e sui magazzini della Scala. Un altro cantiere di impatto che preoccupa per le sue ripercussioni sul traffico è quello di Piazzale Loreto. La partenza delle Ruspe per la riqualificazione della piazza è in ritardo rispetto al programma iniziale. Si doveva infatti partire in autunno, ma si è rimandato tutto per non penalizzare lo shopping natalizio. Il cronoprogramma dall'inizio dei lavori a marzo resta da capire come sarà gestita la sovrapposizione con i lavori in Buenos Aires per non paralizzare mezza città. Infine in fianco alla stazione c'è l'ex hotel Michelangelo già demolito. Lascerà il posto alla costruzione di una nuova torre di oltre 95 metri di altezza che porta con sé anche la riqualificazione della sottostante piazza Luigi di Savoia. Un uomo di 86 anni è stato investito a bollate. Nella pomeriggio di oggi l'incidente è avvenuto poco dopo le 16 in via Don Luigi Uboldi. L'anziano era in bicicletta quando è stato colto da un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo e l'equilibrio. Quando era a terra è stato travolto da una vettura e è stato trasportato in codice rosso in condizioni critiche all'ospedale San Carlo di Milano. Cinque coltellate al petto per rubargli il giubbotto. Restato un 43enne è ricoverato in gravi condizioni, un 67enne. L'aggressione è avvenuta ieri sera verso le 23 in via Pagliera a Lainate. Nel milanese un uomo si trovava in strada quando gli si è avvicinato un individuo che lo ha ferito in modo grave con cinque fendenti al petto per prendergli il giubbotto con portafogli e cellulare. Poi è scappato la vittima di 67 anni. Appunto è stata subito soccorsa e trasportata all'ospedale di Varese, ora in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Gli accertamenti con l'analisi delle telecamere e delle testimonianze hanno consentito di individuare l'aggressore che è stato rintracciato nella sua abitazione. L'uomo è un 43enne italiano che aveva un evidente ferita alla mano e ha ammesso le sue responsabilità. Poi ha consegnato un coltello a serramanico e ha fatto ritrovare sotto una siepe il giubbotto, il portafoglio e il telefono della vittima. I carabinieri della compagnia di Rò e della stazione di Lainate lo hanno arrestato per tentato omicidio e rapina aggravata. Dalle 17.30 i vigili del fuoco delle sedi di via Sardegna, Magenta, Biategrasso e Rostano fronteggiando un incendio scoppiato in un capannone adibito a Fienile, a Cisliano, Cassina Oldani. Le fiamme si sono sviluppate nel giro di pochissimi minuti a causa della presenza di 150 rotoballe di fieno. Nessuna persona risulta finora coinvolta. Sul posto, oltre i sei mezzi del vigili del fuoco, sono accorsi i carabinieri e il personale del 118. Hanno superato la notte e continuano a lottare per la vita i due superstiti dell'incidente accaduto nel pomeriggio di ieri a Pione in alto l'ario a Colico. Manuela, moglie di uno dei due, invece che la retro per uscire da un parcheggio è ingranato la prima e tutti e tre che si trovavano a bordo di una Nissan Qashqai sono precipitati nel lago di Como dopo un salto di una quarantina di metri. Manuela Spargi, 59enne di Milano, è morta sul colpo, mentre Enrico, che ha 60 anni, e Carlo, un loro parente che ne ha 79, di Bernareggio, sono sopravvissuti. Carlo inizialmente era cosciente, poi anche egli è andato in arresto cardiocircolatorio per i traumi subiti e perché è rimasto immerso nell'acqua gelida per lungo tempo. Li ha salvati Ivano Ghidoni, un vigile del fuoco di 45 anni, milanese fuori servizio, che si è buttato in acqua, li ha trascinati fuori dall'abitacolo della vettura capottata semisommersa, la vedete in queste immagini in cui erano intrappolati. Providenziale è anche la presenza di Deborah Palmisano, la compagna del vigile del fuoco, che è una rianimatrice. I due sopravvissuti sono stati soccorsi dai sanitari di Areu, dai volontari di soccorso bellanese, dall'automedic e dall'eliambulanza, che hanno continuato a rianimarli fino al trasferimento in ospedale. È morto ieri a Milano all'età di 86 anni Angelo Stoppani. Per oltre 40 anni è stato con i suoi fratelli lo storico proprietario della gastronomia PEC nel cuore di Milano, che da negozio è diventato un marchio capace di promuovere a livello internazionale il cibo e la cultura enogastronomica italiana. I funerali di Angelo Stoppani si svolgeranno venerdì 5 gennaio alle 11 nella Basilica di Santa Maria presso Satiro in via Torino 17 a Milano. Nel 2003 Angelo Stoppani era stato nominato Cavaliere della Repubblica. Gianni Rivera, ex capitano del Milan, ha fatto causa alla società che gestisce il museo dello stadio Meazza per l'utilizzo a scopo di lucro della sua immagine. La causa è arrivata in Cassazione. Vediamo come è andata a finire. La corte di Cassazione ha dato torto a Gianni Rivera che aveva fatto causa per porre fine all'esposizione nel museo dello stadio Meazza di una statua, di una maglietta e di immagini e oggetti che ricordano la sua ventennale carriera milanista e per chiedere un risarcimento d'anni per l'utilizzazione abusiva della sua immagine. L'ottantenne di Alessandria, campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970 con la Nazionale Azzurra, debuttò con il Milan 18 settembre 1960 e rimase fedele allo stesso club fino al 1979 indossandone dal 1966 la fascia di capitano. Così quando la società che per conto di Inter e Milan gestisce le attività del Meazza ha deciso di allestire a San Siro il museo nel cuore dell'impianto sportivo ha dedicato ovviamente un ampio spazio all'ex fantasista nella carrellata di campioni del passato dei due club milanesi. Ed è proprio M.I. Stadio a essere stata citata in giudizio da Rivera che ha ritenuto abusiva l'utilizzazione della propria immagine perché fatta senza il suo consenso e a scopo di lucro. In primo grado il Tribunale Civile di Milano ha dato ragione all'ex Stella Rossonera condannando la società a un risarcimento di 200 mila euro. In appello però il verdetto è stato ribaltato. A quel punto i legali del Golden Boy si sono rivolte alla Cassazione che ha però dato torto al campione milanista con queste motivazioni. L'esposizione non è strumentale a pubblicizzare altre attività della società e il prezzo del biglietto è di entità modesta e ben si giustifica con la necessità di coprire i costi. E ancora la Suprema Corte ha individuato le finalità culturali e didattiche del museo che serve a far conoscere ai nuove generazioni chi è stato Gianni Rivera e la presunta lesione della personalità del diretto interessato viene liquidata con un, se non fosse stato inserito nella storia del Milan, Rivera avrebbe semmai subito un pregiudizio. Rimaniamo a Milano. Pensate, circa 10.000 verbali di contestazioni per violazioni al codice della strada o ai regolamenti comunali sono stati distribuiti dal Comune di Milano ai comandi della Polizia Locale di Milano con il numero sbagliato del conto corrente a cui il multato deve versare il dovuto. La segnalazione arriva dai sindacati dei vigili che allo stesso tempo fanno sapere che l'amministrazione si sarebbe accorta in tempo dell'errore che avrebbe chiesto ai vigili di modificare il numero al momento della consegna così da evitare che i cittadini invino i soldi al conto sbagliato e poi tra qualche tempo si sentano dire che la multa non era stata pagata. I verbali di contestazione vengono notificati a mano ai trasgressori in caso di violazioni riscontrate di persona, esempio un'automobilista che passa col semaforo rosso. Il caso non riguarda invece le contravvenzioni per divieto di sosta che da tempo vengono inviate a casa senza avviso di infrazione lasciato sul parabrezza dell'autovettura. Ancora qualche settimana e i biglietti ATM non saranno più di carta e neanche usa e getta come quelli attuali ma si potranno ricaricare. I ticket in vendita e i distributori dai rivenditori infatti saranno dotati della tecnologia cheap on paper, la stessa utilizzata da Ferrovia Trenord con il nuovo biglietto non cambierà la tariffa ma dovranno cambiare le abitudini. Il ticket infatti non dovrà più essere inserito nella bocchetta gialla del tornello ma dovrà essere appoggiato sul lettore magnetico proprio come se fosse un normale abbonamento come già succede attualmente. Non solo al termine del suo utilizzo potrà essere conservato e ricaricato per una o più corse future, più sostenibilità ma anche un mezzo per disincentivare i cosiddetti spacciatori di biglietti che ogni giorno raccolgono i ticket usati e grazie alla validità residua li rivendono a pochi euro. Infine il nuovo Tagliando sarà in grado di contenere fino a 30 titoli di viaggio contemporaneamente. Il cambio dovrebbe scattare tra il mese di febbraio e il mese di marzo ovviamente di questo nuovo anno appena cominciato. Conto alla rovescia per il via alle opere di ammodernamento e riqualificazione dell'autodromo nazionale Monza, il più antico e prestigioso circuito di Formula 1 del mondo che è stato costruito nel 1922. L'8 gennaio cominciano i lavori di ristrutturazione dell'autodromo nazionale Monza. Lunedì prossimo Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, darà infatti il via ufficiale alle opere di ammodernamento e riqualificazione. L'appalto affidato alla società milanese Bacchi è di 30 milioni di euro, mentre l'importo per i lavori dell'intervento ammonta 21 milioni. I lavori per Monza dovrebbero terminare tre mesi prima dell'appuntamento di Formula 1. Poi occorrerà effettuare l'esame di omologazione FIA previsto per inizio luglio. Gli ultimi interventi risalgono agli anni 90. Tra il 1989 e il 1997 vennero infatti ampliati i box e potenziate le strutture che ospitano la stampa. Il macchiage dei 5.793 metri del Tempio della Velocità serve per rispondere agli standard qualitativi e di sicurezza internazionali richiesti dalla Federazione Internazionale dell'Automobile. Verrà effettuata la manutenzione alla sovrastruttura del circuito con miscere ad elevate prestazioni ed eventuale risalamento del sottofondo, una riconfigurazione plano-altimetrica della pista e il riadattamento plano-altimetrico di tutti i cordoli del circuito. Verrà realizzata una nuova polifora sul lato interno del circuito con attraversamento dello stesso ogni 500 metri. È prevista grande attenzione riguardo lo smaltimento e la raccolta delle acque sul rettifilo di partenza. Saranno infatti progettate opere idrauliche per la gestione dell'acqua lungo la pista. Tornerà la ghiaia nelle vie di fughe della prima e della seconda variante. Per accogliere al meglio il pubblico e gli addetti ai lavori sono previste opere di demolizione e ricostruzione di tre sottopassi, ma anche la realizzazione di uno nuovo. Verranno realizzate anche opere idrauliche di trattamento e drenaggio. Verrà fatta la manutenzione a collettori, caditoie e pozzetti. Anche l'impianto di illuminazione subirà degli interventi. Cambiamo argomento. Erano ben 183 gli ospiti, tra cui una trentina di minori e di bambini, ieri al tradizionale pranzo di solidarietà organizzato da Confcommercio e da Ati, mercatino di Natale per i meno fortunati, con il supporto di Caritas Ambrosiano. Un momento conviviale di serenità e di allegria, tutta la seconda edizione per i più bisognosi e meno fortunati nella sala Orlando della sede dell'Unione del Commercio in Corso Venezia, che è ormai diventato una tradizione. Noi vogliamo condividere con chi è meno fortunato di noi un momento di gioia, un momento di calore umano, un momento di convivenza con chi in qualche modo si presta ad aiutare le persone in meno ambienti. Col cuore noi vogliamo donare a questa città che è accogliente, che è solidare, ma molto concretamente vogliamo contribuire anche noi. Sono gli ospiti che abbiamo nelle nostre comunità, in particolare sono stranieri nella casa Suraia, che sono dei profughi, dei richiedenti asilo, che sono qui da tempo. Poi ci sono altri servizi, in particolare della cooperativa Farsi Prossimo, che vanno appunto da stranieri, minori non accompagnati, donne, sole, ospiti di comunità e quindi sono un po' la generalità delle persone che noi accogliamo e abbiamo voluto offrire a loro questa opportunità. Una cosa simpatica che abbiamo organizzato per poter intrattenere i bambini, per fargli ricordare questa festa e così via, abbiamo organizzato anche dei giochi per loro e questo mi fa molto piacere perché il Natale è soprattutto dedicato ai bimbi. Speriamo di aver fatto una cosa gradita per questi nostri ospiti e con piacere spero di rifarlo per il prossimo anno. Nella cinquanta e sestesima edizione della giornata mondiale della pazza, una marcia si è svolta per le vie del centro di Milano per giungere in Duomo dove è stata celebrata la messa alla presenza dei ministri delle confessioni aderenti al Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano. Anna Maria Braccini. Augurarci un anno di pace significa impegnarci gli uni gli altri. È un augurio segnato dalla dolorosa consapevolezza che la Terza Guerra Mondiale a pezzi, come dice Papa Francesco, si sia ulteriormente allargata. Quello che Monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la carità, la cultura, la missione e l'azione sociale, dedica nel primo giorno dell'anno 2024 a coloro che si riuniscono in Duomo. Dopo aver percorso le vie del centro di Milano fino alla cattedrale nella marcia tradizionale del primo gennaio, cinquantasettesima giornata mondiale della pace. Marcia promossa dalla comunità di Sant'Egidio con l'adesione e la partecipazione di molte altre realtà e a cui prendono parte i ministri delle confessioni cristiane aderenti al Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano. Poi appunto l'ingresso in processione dal grande portone centrale del Duomo. Per la messa presieduti in rappresentanza dell'arcivescovo impegnato nel suo viaggio missionario in Brasile, dal vescovo ausiliare e vicario episcopale per la zona pastorale 1 Milano, Monsignor Giuseppe Vegezzi. A proporre il saluto iniziale l'Omelia è Monsignor Bressan. Ci sentiamo obbligati, spinti, non si sa bene da quale forza ineluttabile, ad andare verso questa Terza Guerra Mondiale a pezzi. Incapaci di dire no, ci fermiamo. E allora sì, l'augurio può essere veramente tale per un anno migliore. Chiedendo a Dio davvero di portarci il dono della pace. Dio della pace non ti può comprendere chi semina la discordia, non ti può accogliere chi ama la violenza. E alla fine la benedizione corale con tutti i concelebranti e i ministri delle confessioni cristiane in Altare Maggiore e l'auspicio di Monsignor Vegezzi, che ringrazia tutti anche a nome dell'Arcivescovo per aver pregato insieme. Vi ricordo dopo questo telegiornale la striscia quotidiana alla Chiesa nella Città, oggi a cura di Anna Maria Braccini che questa sera propone proprio un approfondimento della celebrazione in Duomo di cui abbiamo appena visto un servizio. Seguire ovviamente il telegiornale sportivo con Michele Lanati e dalle 20 fino alle 21 l'appuntamento con Nova Stadio Sprint. Non perdetelo perché è cominciato il calcio mercato e sarà ricco ovviamente di approfondimenti e di indiscrezioni proprio sul mercato invernale dei trasferimenti dei calciatori. Grazie per averci seguito dal TgN e l'augurio di una serena serata. Arrivederci.